Grazie a tutti. L'atto di indirizzo è stato presentato dal gruppo del PD, primo firmatario, il capogruppo Vincenzo Ceccarelli. Una scuola di formazione politica intitolata ad Alessia Ballini, lo statuto della fondazione, approvato a larghissima maggioranza il testo proposto dall'ufficio di presidenza. La giunta regionale deve sollecitare il governo a favorire l'apertura di un tavolo nazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda Amazon per affrontare il nodo delle condizioni di lavoro e superare le difficoltà evidenziate sia nel sistema della logistica che delle consegne. Lo chiede una mozione presentata dal gruppo PD, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, che è stata condivisa da tutti i gruppi e votata in modo unanime dal Consiglio regionale nella seduta di mercoledì 24 marzo. Noi abbiamo presentato una mozione per invitare la giunta, il presidente, a sollecitare il governo nazionale affinché si faccia parte attiva per vedere di superare il problema che è stato denunciato con un'altissima percentuale di adesioni allo sciopero dai lavoratori di questa grande multinazionale. Questa multinazionale ha 175 centri di distribuzione nel mondo, 40 in Europa, alcuni anche in Italia, fra l'altro due qui in Toscana, a Pisa e qui nella Piana Fiorentina. C'è stato un forte aumento, tra l'altro, dei volumi di affari di queste aziende che sono legate all'e-commerce, causa anche il Covid che ha costretto le persone a stare in casa. C'è stato un aumento di oltre il 50% dei volumi di affari. Rispetto a questo aumento di volumi, che presuppone anche un aumento dei guadagni, c'è invece una situazione che viene denunciata dai sindacati e dai lavoratori di compressione di quelli che sono i diritti, la qualità del lavoro che sono costretti invece a subire. In termini di turni stressanti, di necessità di consegne alle ore più disparate, assenza di clausole sociali nei loro contratti. Molti di questi contratti sono precari. E quindi c'è stata un'altissima adesione al primo sciopero che è stato indetto dai lavoratori di questa grande azienda, perché ha partecipato oltre il 70%. Ecco, noi pensiamo che vada riaperto il tavolo che invece l'azienda ha interrotto di confronto, di dialogo con i lavoratori, perché siano accolte le richieste che loro fanno. È un'attenzione che vuole dare il Consiglio regionale, indipendentemente dalla ripartizione di carattere politico, per dimostrare che c'è un'attenzione forte al mondo del lavoro, a un lavoro che in questo momento sta faticando rispetto alle tutele di un settore che comunque sta producendo grandi utili, grandi redditività e che sta, tra virgolette, guadagnando dalla crisi degli altri. E quindi come tale questa redditività deve essere condivisa e ripartita fra chi quel lavoro produce, mediante il proprio lavoro produce quel reddito. Intanto la solidarietà e la vicinanza è giusto che il Consiglio regionale la esprima sempre. Noi non siamo soliti portare in aula mozioni sulle tematiche del lavoro e condividerle indipendentemente da chi le presenta. Noi ci aspettiamo che anche qui la Regione si attivi il prima possibile per dare risposte a tutti quei lavoratori che lavorano anche in tempo di pandemia, che subiscono turni che sono pesantissimi e che hanno giustamente delle richieste da fare alla politica che non può tacere la risposta ma che si deve impegnare per portare le loro soluzioni. Mi fa piacere e voglio fare veramente complimenti ai lavoratori di Amazon perché prendere un'iniziativa sindacale come quella che hanno preso contro forse il più grande colosso mondiale non credo sia facile, serviva perché bisognava portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro di queste persone. Io mi auguro che il Consiglio regionale abbia fatto, non so se riusciremo a fare qualcosa di concreto per loro, me lo auguro ma sarà difficile visto le dimensioni della controparte, però mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana sia l'apripista per avere il coraggio di far luce su una situazione di lavoro che non è possibile accettare nel 2021. La Regione deve fare il possibile con la consapevolezza che una buona parte del lavoro dovrà essere fatta per le garanzie a livello nazionale. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, appena salito al Governo, si è subito proposto per la sicurezza dei cosiddetti riders, di coloro che appunto portano i pasti a domicilio. Dobbiamo fare lo stesso tipo di intervento, è fondamentale perché questi lavoratori sono sempre più diffusi e soprattutto questa multinazionale, ma dobbiamo fare attenzione anche alle altre, deve garantire i giusti livelli di tutela. Non c'è lavoro se non c'è lavoro sicuro e retribuito e con le giuste garanzie. Questo deve essere un imperativo per la Toscana e per il nostro Governo. Lo Statuto della Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale Alessia Vallini è stato approvato dal Consiglio regionale a larga maggioranza. È stato il Presidente Antonio Mazzeo ad illustrare in aula le modifiche introdotte dall'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza che ha licenziato la proposta all'unanimità. Il Consiglio regionale ha infatti istituito una fondazione rivolta a consiglieri regionali, comunali, assessori e sindaci per qualificare sempre più il loro impegno nelle istituzioni e anche la loro capacità di analisi e gestione dei problemi. Le attività di formazione saranno riservate ai consiglieri e amministratori degli enti locali e della regione, d'età compresa tra i 18 e i 40 anni, e orientati allo studio e alla conoscenza di materie legate all'attività politico-amministrativa. Oggi è una bella giornata, abbiamo dato seguito alla legge che era stata approvata nella scorsa legislatura, abbiamo votato una delibera che istituisce l'atto costitutivo con cui andremo a fondare una scuola di formazione politica. Il nostro obiettivo dall'inizio di questa legislatura è quello di dare risposte ai ragazzi più giovani. Vogliamo dare con questa scuola gli strumenti ai giovani amministratori Anter 40 per svolgere meglio il loro compito, quello di dare risposte ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Lo faremo insieme a Danci, insieme a Dupi, cercheremo di mettere in piedi una scuola di formazione che oltre a fornire gli strumenti definisca anche le principali azioni valoriali che la nostra Regione vuole portare avanti. Sarà pronta dall'estate di quest'anno, noi speriamo di fare i primi corsi subito dopo l'estate in maniera tale da poter coinvolgere già i primi studenti nel 2021. Ora, non appena sarà approvato, sarà sottoscritto lo Statuto e l'atto costitutivo, torneremo in Consiglio regionale per eleggere il CDA della Fondazione che, sottolineo, svolgerà questo incarico senza alcun compenso. Innanzitutto ricordiamoci la storia. La scorsa consigliatura, dove anche all'epoca risultavo tra i consiglieri, vide uno degli ultimi atti, devo ricordare anche con un atto votato proprio in fretta e furia, la istituzione della scuola. Quella fretta non ci piacque, proprio perché rappresentava una forzatura di finale consigliatura che ovviamente non poteva trovare il nostro consenso. Oggi si sta scrivendo anche e soprattutto per merito di un ufficio di Presidenza che sta lavorando in coesione anche con il centro-destra, con i consiglieri del centro-destra che stanno dando un importante contributo, ecco, si è scritta una pagina diversa. La scuola era istituita, ora si trattava comunque di far sì che vi potesse essere un buon funzionamento, perché quando le cose esistono di fatto occorre cercare insieme di dare un buon funzionamento. Quello che chiedono i toscani, che le cose oggettivamente funzionino. Buon senso, pragmatismo. Noi abbiamo dato veramente dei contributi importanti sotto questo punto di vista. Il direttore risulterà, tra le persone che fanno già parte, delle strutture e dei soci fondatori di regione, ANCI, UPI, e quindi non ci sarà un aggrave di costi ulteriori. E questo è un dato importante in un periodo come il nostro. Inoltre, si cercherà di fare una buona sinergia e collaborazione con la scuola di ANCI, perché questa riguarda appunto tutta la Toscana e tutti gli eletti, quindi anche la collaborazione con ANCI, con la collaborazione con UPI. È un'occasione per buttare via i soldi. Lo abbiamo detto in maniera molto chiara. Siamo l'unica forza politica, Forza Italia è l'unica forza politica che ha votato no allo spreco di 300 mila euro in tre anni per formare chi? Chi dovrebbe essere già formato? Perché allora dovete chiedere a chi mandate nei consigli comunali, nei consigli di quartiere, nei consigli regionali in Parlamento, la sai fare politica? La sai riconoscere una differenza fra una mozione e un'interrogazione? Se vi risponde di sì, votatelo. Se vi risponde di no, non lo dovete votare. Perché è inaccettabile che dalle tasche di un dipendente, dalle tasche di un pensionato, vengano prelevati dei soldi e quei soldi servono per formare chi? I politici. Questo è il modo peggiore di fare politica. Forza Italia, in maniera fiera, è l'unica forza politica che ha votato in consiglio regionale contro questo spreco di danaro pubblico. Perché la formazione appartiene ai partiti e perché la formazione la si fa ascoltando i cittadini e facendo i percorsi. Io ho fatto il consigliere di quartiere, il consigliere comunale, ora il consigliere regionale. Questo è quello che dovrebbe fare la politica, non chiedere che i cittadini paghino le tasse per poi formare i politici. È inaccettabile. Può essere un'iniziativa interessante, ma attualmente è fuori contesto, stante l'emergenza che stiamo vivendo. E non parlo solo per i 300 mila euro che dovrebbero essere devoluti per il finanziamento, ma parlo anche di come si vorrebbe impostare questa scuola di politica. La scuola politica la fa ciascun partito, noi come movimento, nelle formule che avvicinano il cittadino alle istituzioni, a un percorso di politica intesa in senso puro, genuino, avvicinarsi all'interesse di tutti, della collettività. Mi sembra un'iniziativa della Regione Toscana che non abbia un fondamento particolarmente forte. Sembra soltanto una delle tante iniziative della Regione Toscana, ma non ne trovo in questo momento né l'utilità e né soprattutto le fondamenta, le basi anche argomentative per crearla.